in cucina con clementi per scoprire le capacità di un super barbecue or parliamo di griggo un prodotto 100 per cento made in marcha e non a caso siamo in una delle location più belle del centro italia siamo infatti alla villa il marchese del grillo un'antica villa settecentesca qui le storie sono davvero tantissime e ringraziamo per questa ospitalità mario e serena d'alessio ed ora un classico un classico la grigliata mista di carne tra l'altro parlando di marche parlando di location qui abbiamo veramente tutto quello che è la carne delle marche quindi il maiale abbiamo la pancetta abbiamo le bracioline poi abbiamo delle salsicce le costicine quindi di tutto e di più inoltre ovviamente grazie a gringo andremo a grigliare anche delle verdure quindi la doppia cottura la doppia preparazione in un prodotto unico perché questo è un prodotto che ci permette di cuocere su tutti e quattro i lati con questa bella piastra molto spessa e soprattutto durante magari l'inverno ci permette anche di scaldarci quindi anche un elemento di arredo prima di tutto lara io direi di cominciare a cuocere le verdure quindi io con un filo di olio vado a condirle leggermente non troppo e metto anche il sale il sale fondamentale prima della cottura per le verdure perché è idroscopico questo significa che va a disidratare in precedenza le verdure prima appunto della cottura e quindi ci permette di eliminare quella parte di acqua di vegetazione che sta all'interno delle verdure che tendenzialmente non è così buona da mangiare quindi se noi centrifugassimo una una melanzana nessuno se ne berrebbe il succo perché in realtà l'acqua delle verdure non è edibile grazie al sale riusciremo a disidratarle le metto direttamente sulla piastra come vedi è molto semplice l'operazione e poi a seconda senti come sfrigolano della temperatura che voglio ottenere posso decidere se metterle più avanzate oppure più indietro così da avere una cottura una temperatura di differenti metto anche qualche peperone voilà così da avere un po un mix e poi sempre con una bella con una bella pinza le vado a girare guarda che meraviglia vedi incominciano ad essere già belle dorate nell'altra nell'altra piastra nell'altro lato vado a mettere la grigliata mista quindi la salsiccia voilà la salsiccia di fegato eccala vedi semplicissimo poi la pancetta ovviamente naturalmente ogni ogni pezzo di carne avrà una cottura diversa e quindi dovremmo metterla scaglionata quindi magari prima mettiamo le salsicce poi aspettiamo qualche minuto ed eventualmente aggiungiamo la pancetta la bracciolina che va rigorosamente salata e condita magari con un po di pepe e poi volendo anche con qualche aroma metto un filo di olio questo mi permette di dare molto più sapore al piatto e poi attenzione di tanto intanto le andiamo a girare vedi poi se vogliamo lasciar cuocere più lentamente anche le altre verdure basta arretrarle leggermente in questo modo tu immaginati in inverno un bel barbecue io dico in inverno perché gringo è anche un elemento da riscaldamento esterno quindi è davvero eccezionale magari con un bel bicchiere di vino tutto intorno al barbecue e ognuno sceglie la propria cottura ognuno si cuoce il suo spiedino oppure il suo filetto di carne ecco vedi lara appena le nostre verdure incominciano a cuocere le andiamo a servire quindi mettiamo da una parte tutte le verdure guarda come cuociono anche la salsiccia la salsiccia di fegato ovviamente la pancetta la pancetta impiega poco tempo a cuocere però guarda che bella croccantezza che bella doratura se poi vediamo che il fuoco è troppo alto basta spostarle leggermente verso l'esterno e questo ci permetterà di cuocerle in modo più docile più lento bene anche i peperoni sono pronti quindi le verdure sono tutte cotte non ci resta che servire la salsiccia guarda che bello il la pancetta c'è una grande tradizione del maiale anche nelle marche e soprattutto nel centro italia in generale le costicine impiegheranno qualche minuto in più li lasciamo cuocere e poi prendiamo ovviamente la nostra salsiccia di fegato pronta per una grande grigliata grazie a clementi forni